L'incontro di calcio, dodicesima gara di Antata del campionato provinciale, girone unico tra Virtus Castelfrentano e Valtisangro squadra B. Grazie. Ecco, i nostri ragazzi hanno la fascia a lutto, memoria e rispetto del soggio fondatore Luciano Caporale. Ecco, l'arbitro è il signore Laforgia Patrick di Lanciano, è pronto per la scelta del campo. La formazione della Virtus Castelfrentano, numero uno d'Ottavio Matteo. Allora la formazione numero uno d'Ottavio Matteo, due Ceroli Alessio, tre Tucci Federico. Quattro Donofrio Gabriele, cinque Sing Caran, sei Cuniberti Lorenzo, sette Gianleonardo Emanuele, otto per Rucci Nicola, nove Caporale Enrico, dieci Malvone Gianluca, untici Mata Teidi. In panchina, col numero tredici Cirillo Bartolomeo, col numero quattordici Rulli Duca, col numero quintici D'Angelo Nicolò, col numero sedici D'Angelo Lorenzo, col numero diciassette Ferretti Filippo, col numero diciotto Colai Zeguido e col numero diciannove Masciarelli Fabio, arbitrarà l'incontro il signor Patrick Laforge della sezione Aia di Lanciano, il mister della Virtus Castelfrentano, il signore Felice Gabriele. Dirigente accompagnatore, il cavaliere Carlo Iocco, massaggiatore Mancini Francesco, il guardalini e Cristian Nasuti. Buon divertimento.